Marzo è un mese che anche culturalmente ci invita a fare due memorie, la memoria della donna, il ricordo della festa della donna, l'8 di marzo e poi da qualche tempo a questa parte attaccandosi tra virgolette alla figura di Giuseppe, di San Giuseppe c'è anche il ricordo della memoria dei padri. Senza entrare dentro una riflessione ampia eccetera colgo l'occasione per fare gli auguri ai padri perché abbiano a vivere pienamente la vocazione della paternità, esercitino questo ministero di vicinanza ai propri figli e si facciano il insieme alle donne madri, alle spose madri, educatori dei figli e qui loro faccio l'abbinamento con la figura di Giuseppe. E' bello come il Vangelo ci racconti come queste due persone, Maria e Giuseppe, che hanno accolto una vocazione particolare, quella di educare l'uomo Gesù, il figlio di Dio Gesù, hanno avuto questo compito e l'abbiano assolto con grande amore, con grande passione. Mi piace pensare che ogni padre e ogni madre ricopieno la sintonia di amore tra i due e la grande opera educativa. La festa di San Giuseppe invita anche ad abbinare Giuseppe con il lavoro, Giuseppe lavoratore, Giuseppe un padre che lavora, che pensa alla famiglia, che sostiene la famiglia, che difende la famiglia. Viviamo un'epoca difficile da questo punto di vista. E' necessario allora che tutti insieme si crei sempre di più quella sorta di coesione sociale per cui si possa dare sicurezza alle famiglie attraverso la ripresa generosa del lavoro da parte di tutti, ma che ci sia anche però una storia di solidarietà frutto di una fraternità. Ecco, San Giuseppe ci aiuti. A quel tempo la famiglia era povera ed era felice. Nessuno di noi vuole una famiglia povera oggi, però tutti lavoriamo felici e perché sia felice è necessario che essa sia aiutata e il lavoro credo che sia un grande elemento di serenità. Che San Giuseppe ci aiuti.